buongiorno anime continua il nostro percorso dedicato ai pensieri di buongiorno anime di innamorarsi della vita oggi parliamo vi espongo un pensiero dedicato alla voce del maestro vi leggo il pensiero dopodiché cominciamo a parlarne a riguardo la voce del maestro il vero maestro è colui che ti fa scendere portandoti in profondità fino a farti riscoprire la voce del tuo maestro interiore quando sentirei dentro te nel cuore questa immensa forza questa immensa potenza allora avrai ritrovato te stesso o te stessa cosa significa questo che il vero maestro è quello interiore di ognuno di noi però ognuno di noi anche bisogno di ritrovare lungo il proprio cammino un maestro una figura di riferimento ci sono stati grandi maestri da gesù ad oscio e via dicendo grandi maestri che ci hanno permesso non tanto di avere una stampella tra le mani ma quella proprio di riuscire a ricercare dentro noi quella che è la felicità la possibilità di poterci innamorare della vita ma qual è il ruolo di un maestro il ruolo di un maestro è sostanzialmente quello di sviluppare nel discepolo quindi in ognuno di noi il desiderio di ricercare ma di ricercare cosa un contatto con il sé superiore quindi un contatto parliamo di vero proprio del terzo occhio quindi del sesto chakra e quindi di diventare a un certo punto autonomo ricercatore dove il desiderio ti spinge te discepolo a ritrovare quindi il tuo maestro ma il maestro interiore perché abbiamo già tutto dentro noi si dice abbiamo tutto nel nostro cuore ok possiamo collocare il nostro maestro interiore dove dove preferiamo però parliamo proprio di anima il contatto con l'anima ma perché questa ricerca perché questo cercare di abbandonare ad un certo punto le stampelle che in principio cercavamo in un maestro esterno per agire liberamente attraverso le nostre scelte la scelta è associata al numero 6 sesto il chakra di riferimento e 6 significa essere liberi di scegliere poi attraverso l'intenzione con fede mettere in moto dei meccanismi dell'universo tali che il mondo sia adatti alla nostra scelta stessa e quando noi entriamo in contatto con il maestro interiore in noi allora siamo sul cammino giusto sul cammino di quella che potremmo anche definire verità la nostra verità buongiorno anime alla prossima al prossimo pensiero un abbraccio benedicato benedicato Grazie.